Nessuno deve sentirsi abbandonato. È stato questo il nostro obiettivo sin dall'inizio e oggi questa deliberazione, questa approvazione del decreto legge lo dimostra. Una manovra poderosa. Questo è l'aggettivo che il presidente del Consiglio Conte in conferenza stampa ha usato per presentare il contenuto del decreto Cura Italia. 25 miliardi per l'emergenza che da sanitaria è diventata anche economica. Un modello anche per l'Europa. Possiamo parlare quindi di modello italiano non solo per quanto riguarda la strategia di contrasto alla diffusione del contagio, ma possiamo iniziare a parlare anche di un modello italiano per quanto riguarda la strategia, la politica economica. Ma vediamo nel dettaglio cosa contiene il decreto. Innanzitutto ci sono 3,5 miliardi per l'emergenza sanitaria e di protezione civile, cifra che però molto probabilmente è destinata ad essere aumentata già a partire dal prossimo decreto previsto ad aprile. Per il capitolo ammortizzatori sociali ci sarà sia il fondo di integrazione salariale che viene aumentato di 1,3 miliardi che la CIG in deroga per tutti i datori di lavoro anche con un solo dipendente che sarà pari a 3,3 miliardi di euro. Per i professionisti, coco coi, lavoratori agricoli e dello spettacolo è stanziato un bonus di 600 euro, mentre per i dipendenti con reddito fino a 40.000 euro c'è un premio di 100 euro proporzionato in base al numero dei giorni lavorati. Tra le misure c'è l'annunciata estensione del congedo parentale e del voucher babysitter, quindi a decorrere dal 5 di marzo e per un periodo continuativo frazionato, comunque non superiore ai 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo, come detto, di 15 giorni. In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di babysitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Estesi i permessi destinati a chi fruisce della legge 104, fra marzo ed aprile, saranno di 12 giorni. Confermato rispetto alle attese l'ulteriore intervento sui licenziamenti che sono congelati, misura che riguarda le procedure dal 23 febbraio in avanti, cioè da quando è scoppiata l'epidemia. Per i lavoratori in quarantena poi si conferma il computo del periodo di astensione dal lavoro come malattia. Nel decreto ci sono, oltre alle misure di sostegno al reddito, anche quelle per il credito. Arriva l'attesa sospensione di mutui e prestiti con garanzie pubbliche, dalle quali ci si attende un effetto moltiplicatore per arrivare alla cifra che il Presidente del Consiglio ha fissato in 350 miliardi di euro. In campo fiscale si conferma la sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi con il Ministro dell'Economia che ha parlato di un differimento al 31 di maggio per le imprese che fatturano fino a 2 milioni e anche oltre questo limite per le categorie colpite direttamente dalla crisi.